Ci sono delle cose che io credo siano davvero delle grandissime vergogne, delle grandissime cagate, soprattutto nel 2023 e questa è una di quelle. Non lo dico perché stavolta i protagonisti rispondono ai tifosi della Lazio, lo dico perché nel 2023 quando mi vado a vedere la partita, quando vado a godermi una partita, quando me la guardo in tv, quando ho voglia di fruire di un contenuto che sia per tutti, io non posso ancora vedere la scena orrenda, orrenda, inguardabile, inguardabile che ho visto ieri con un titi che è costretto a finire la partita in lacrime, disperato perché è stato insultato, insultato per il colore della pelle per 90 fottuti minuti, per me questa è una cosa indicibile e ripeto, non lo sto dicendo per una questione di tifo, condanno ogni tipo di atto di questo tipo, ogni tipo di atto, che lo facciano i tifosi romanisti, laziali, milanisti, interisti, giuventini, napoletani, fiorentini, bergamaschi, qualunque cosa, atalantini nel caso di bergamaschi, qualunque cosa per quanto mi riguarda deve essere condannata. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto i coglioni e fin quando non verranno prese posizioni più importanti riguardante questa faccenda non guariremo mai, non guariremo mai. Tra l'altro godo perché un titi che è stato insultato per 90 minuti non giocava così bene, penso, dal mondiale 2018 in cui vinse con la Francia la titolare. È da quel momento lì che non vedevo un untiti di questo tipo. e con Baschirotto hanno fatto una difesa, ieri, clamorosa, che è stata capace di battere la Lazio. Godo, a parte che perché sono romanista, ma poi godo in generale, perché se tu ti permetti anche soltanto di pensare, di poter insultare gratuitamente, completamente a caso, un calciatore per il colore della pelle, a parte diventi molto peggio, ma intanto ti prendi la sconfitta. E ci sta e sono contento per un titi e mi auguro anche che da oggi dia una grossa risposta e la risposta sia proprio sul campo a dimostrazione del fatto che voi mi insultate, io mi ergo al di sopra. E ripeto, non voglio fare un video populista, adesso voglio parlare anche di altre cose, una sorta di day after della giornata di ieri, ma questo è l'argomento cardine. Cioè, alla fine, vedere le immagini, le ho riviste, sono rimasto veramente esterefatto, vedere le immagini di lui disperato, che allarga le braccia, come a dire, non so che dirti, non so che fare, verso l'allenatore, ma che dobbiamo fare, ma che dobbiamo fare, ma nel 2023, ma ancora, ma ancora, ma ancora, ma basta, ma basta. Rallenta il Napoli, oggi stavo riflettendo un po' su quella che è stata la partita di ieri, l'Inter fa un'ottima partita, la vittoria sicuramente la merita, ne ho parlato nel video post partita, quindi recuperatevelo, ma in una sorta di day after ci tengo comunque a considerare come, in realtà, l'arma vincente dell'Inter probabilmente sia stata quella di riuscire a neutralizzare i calciatori del Napoli. Un po' come aveva fatto la Roma, che però magari aveva un po' meno qualità dell'Inter contro il Napoli, aveva perso lì anche, diciamo che Mourinho, sotto quel punto di vista, aveva ragione, perché aveva detto, giustamente, lì, regà, c'è una palla, il Napoli non è un'occasione nitida, si ferà la butta dentro, se ce la fossimo creata di noi, se l'avessimo buttata dentro noi, probabilmente avremmo vinto la partita, ok? Perché quella è veramente una partita da un'occasione per parte in tutti e 90 i minuti. E in qualche modo si rischia anche di incappare in questo ieri, però l'Inter è più brava, ha più qualità, nel primo tempo fatica anche a capire come ripartire, poi però vola, vola sugli ali dell'entusiasmo e vola verso una vittoria che significa riavvicinarsi alla Juventus, una Juventus che ha vinto l'ennesima partita, la settima consecutiva senza subire gol, una Juventus che non ha intenzione alcuna di fermarsi mai e che adesso veramente sembra una squadra da scudetto. Per quanto poi possa far distorcere il naso il fatto che la Juventus in questo momento sia un po' meno che da scudetto proprio per come era partita, ragazzi la Juventus continua ad avere delle assenze perché anche ieri gli mancava Vlaovic, gli mancava Di Maria, Chiesa è entrata a Pasita in corso perché ancora non si è ripreso completamente, è una Juventus che ha dovuto puntare su Sule, che ha dovuto lanciare Gatti, che a centrocampo non ha mai avuto Paul Pogba, che Di Maria che deve essere titolarissimo non ha mai giocato, eppure è una Juventus che vi piaccia o no sta lì e con la vittoria arrivate in motoro cambolesco per la punizione di Milik e come vi pare a voi, è una Juventus che sta lì e che si gioca le sue carte, le sue possibilità anche domenica prossima o quel che è sabato, lunedì, non lo so, contro contro gli Napoli, cioè quella sarà una partita a crocevia, quella sarà veramente una partita a crocevia, lì capiremo veramente venerdì prossimo tante 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 cose, perché adesso il Napoli in tre partite si gioca la stagione e la Juventus può mettergli i bastoni tra le ruote e può farlo con intelligenza e con cognizione di causa, quindi personalmente non mi stupirei se questo accadesse, vedremo quello che accadrà, il Napoli dopo aver perso l'Inter adesso un pochino con una Juventus in stato di grazia, secondo me trema, il Milan vince, vince qualcuno ha riso quando io ho detto il Milan domina contro la Salernitana, per me così è stato, cioè la gran partita l'ha fatta Uccioa, ha fatto veramente una gran partita Uccioa, ha fatto una partita straordinaria dove ha parato almeno, ha fatto una cappella sul primo gol, questo sì, nitido, non si può dire nulla, però comunque ha parato almeno 8-9 tiri destinati alla porta, molto pericolosi e molto difficili da parare, quindi a mio avviso si merita innanzitutto un applauso, però dire che il Milan non abbia meritato la vittoria è un po' come vedere la partita con le fette di salame davanti agli occhi, cioè perché si è giocata una porta, il Milan che attaccava, 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 attaccava e si è creata tante occasioni, solo nel finale, solo nei dieci minuti finali, la Salernitana dopo il gol del pareggio di Buonazzoli ha provato a riprendere la gara, ma tra l'altro manco a senso unico perché poi tante volte i rossoneri si ributtavano in avanti alla ricerca del gol del tre, ma ne hanno chiuso direttamente in avanti, quindi onora la Salernitana che ha perso solo 2-1, onora la Salernitana che è andata a giocarsela contro un Milan che quest'anno lotterà per provare a vincere lo Scudetto, però comunque consideriamo anche il fatto che il Milan meritava, secondo me, nettamente la vittoria. E poi la Roma, siamo inguardabili, cioè siamo oggettivamente inguardabili, non se potremo vedere. Mi importa poco e nulla nel senso che per come sta giocando adesso la Roma, io le partite le voglio vincere e basta, non c'ho il pallino di dire voglio convincere, voglio giocare bene, però è chiaro come non posso nemmeno appellarmi alla scusa di dire eh ma il campionato è ripartito da poco, non è così ragazzi, non è così, cioè il campionato è ripartito da poco ma non c'entra nulla, questa Roma è stata una linea continua da inizio stagione che non si è mai portata né su né giù, cioè quindi io faccio anche fatica a immaginarmi come possa questa Roma in futuro continuare così. Per il momento che prendi tre punti, una partita pessima, una vittoria arrivata solo grazie a un calcio di rigore, ma poi non abbiamo mai tirato, ma zero volte proprio, ma zero occasioni, ma brutti come la fame, mi dispiace perché poi io vado allo stadio, me le guardo, non mi diverto, mi piacerebbe vedere anche un minimo di più, ma anche a livello tattico, capisci bene che in futuro c'è la possibilità che ti si ripercuote su di te questa cosa perché poi fai fatica, fai estrema fatica a capire come uscite le situazioni intricate, se non ti danno quel rigore o se magari al Bologna danno un rigore che poi non esiste, Giacomo Motta se vede i fantasmi dice che c'era un rigore, non esisteva quel rigore, non esisteva quello che era il Bologna, però ammetti che c'è e lo danno, uno a uno, ma tu poi a 20 minuti dalla fine, a mezz'ora dalla fine, ma come fai a riprenderla che non hai un minimo di gioco, non hai uno straccio di gioco? Io resto basito, comunque volevo dirvi la mia, la mia vero addetta, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi piaci, io vi ringrazio, vuoscelo all'alene come sempre, ci vediamo al prossimo video.